Salve amici e benvenuti in un nuovo video. In realtà oggi dovevo registrare tutt'altro ma alla fine mi sono deciso di fare questo e quello che dovevo registrare verrà rimandato a data da destinarsi. Oggi vi volevo parlare di un personaggio di Harry Potter che ormai il titolo l'avete letto quindi sapete chi è ma comunque ho un copione e quindi devo seguirlo. In Harry Potter sono presenti davvero tanti personaggi. Basti pensare alle centinaia di studenti di Hogwarts, ai professori, ai presidi, ai mangiamorte. Ce n'è uno però in particolare che nonostante per definizione non sia un personaggio principale pur essendo senza dubbio uno dei personaggi più importanti tende spesso ad essere dimenticato. E stiamo parlando di Neville Pachock. Neville all'inizio della saga viene descritto come, ammettiamolo, un ragazzino piuttosto imbranato, timido e decisamente paffuto. Tant'è che quei criminali dell'adattamento italiano, pensando che per lui fosse un nome migliore che lo rispecchiasse meglio, gli hanno cambiato il nome da Longbotton a Pachock. Però non fa ridere. Alla fine però Neville non solo sarà uno dei personaggi più coraggiosi della saga, ma anche uno dei più determinanti durante la battaglia finale contro Voldemort. Neville è quello che dovrebbe essere un grifondoro nella vita vera, una persona in grado di compiere atti di estremo coraggio in situazioni terribili, ma abbastanza intelligente e autoconservativo da rendersi conto che non è sempre necessario caricare tutto a testa bassa per dimostrare coraggio. Capace piuttosto di capire per cosa vale la pena combattere e come affrontare al meglio la battaglia. Secondo la profezia di Sybilla Koeman, Neville sarebbe potuto essere il prescelto al posto di Harry. Se solo Voldemort quella volta avesse preso una decisione differente, adesso ci troveremmo con un Neville Pachock con la cicatrice sulla fronte e un Harry Potter con dei genitori e che sicuramente avrebbe vissuto una vita più normale. Ma non è solo questo che la Rowling, secondo me, voleva trasmettere quando ha creato il personaggio di Neville. Perché mentre scriveva Harry e i suoi amici, la Rowling si è preoccupata di creare una sorta di parallelismo con quella che era la generazione precedente e in alcuni casi è più evidente rispetto che negli altri. Per esempio Harry e James, campiona del Quidditch, leale, coraggioso e in più occasioni dimostra di essere un buon leader. Ron dovrebbe essere Sirius, irascibile, alcune volte divertente, molte volte sarcastico e pieno di dubbi su se stesso. Hermione è quella che rappresenta di più Remus, intelligente, meticolosa, equilibrata e con una propensione naturale allo studio. Ginny è Lily, anche lei molto intelligente, coraggiosa e con un carattere estremamente forte. Draco, purtroppo per lui, rappresenta Python, rivale naturale di Harry, egoista, molto pretenzioso e con un ego smisurato. Ora, non voglio farvi storcere il naso, ma secondo questo ragionamento Neville dovrebbe essere Peter Minus. Fermi, 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 prima di commentare e fare qualsiasi altra cosa brutta. Pensateci bene, è amico di lunga data del trio, sempre guardato dall'alto in basso da praticamente tutti gli altri suoi compagni per la sua poca propensione allo studio e per il suo essere definito senza talento. La persona di cui tutti si prendono a gioco quando Harry, Ron e Hermione non sono lì per difenderlo. Eppure, nonostante tutto, viene spesso a conoscenza di segreti riguardanti Harry e i suoi amici. Harry stesso alla fine gliene affida uno di estrema importanza che è quello sugli Horcrux. Come Minus, prima di lui avrebbe avuto la possibilità di vendere i suoi amici in diverse occasioni. Viene apertamente messo nella posizione di poterlo fare, infatti è un puro sangue e Voldemort gli offre addirittura la possibilità di unirsi ai suoi, proprio come a Peter. Ma Neville rifiuta. Mi unirò a te quando l'inferno gelerà, dice in faccia il mago oscuro più terribile di tutti i tempi. Al contrario di Peter Minus, il timido, l'imbranato e senza talento Pacioc, dice di no a Lord Voldemort. Ma allora Neville non è Peter Minus. Sì, Neville lo è. La risposta non cambia in alcun modo. Neville è esattamente quello che Peter Minus sarebbe dovuto essere, una versione migliorata, rivista e corretta. Neville è l'esempio perfetto di come un singolo ingrediente in una ricetta possa rovinare un piatto oppure renderlo perfetto. E questo lo dico perché lui si trova nelle stesse condizioni di coda liscia, ma riesce a fare tutte le scelte difficili che invece lui non ha fatto. Altri personaggi sono in situazioni simili, ma nessuno come Neville dà prova che il singolo individuo crea il proprio futuro. Naturalmente racchiude molte caratteristiche che lo rendono un personaggio formidabile, ma secondo me la cosa più bella di tutta quanta l'equazione è il fatto che le sue capacità siano complementari a quelle del gruppo, che è proprio quello che mancava ai malandrini. Harry e i suoi amici hanno bisogno di Neville proprio come James, Lily e l'Ordine della Fenice avevano bisogno di Minus, con la sola differenza che Neville è all'altezza di tutte quante le aspettative. Hogwarts è un po' uno spaccato della società, in cui sempre più spesso tendono ad essere viste di valore solamente le persone che sono leader oppure più vicine al comando, mentre quelli come Neville vengono dimenticati. Ma la mancanza di fiducia da parte dei suoi compagni non lo porta a gettare la spugna, anzi, la sua timidezza si trasforma in un, scusatemi il gioco di parole, in un'ostinata ostinazione nel cercare di migliorare sempre di più le sue capacità, cercando anche in tutti i modi di rendersi utile anche quando il suo aiuto non è richiesto. Proprio quello che succede durante l'Ordine della Fenice quando partecipa alla battaglia del Ministero. Peter Minus era nelle stesse condizioni, ma ha lasciato che la paura gli condizionasse la vita. Per tutto il periodo scolastico ha ammirato e amato James e Sirius e poi, basta, stop, dal nulla, ha cancellato tutto e ha trasferito questi suoi sentimenti verso Voldemort. E la parte più brutta di tutto quanto è che Minus non prova rimorso per quello che ha fatto, perché per lui non c'era altra scelta sensata da fare che tradire i suoi amici e unirsi a Voldemort. Sirius dice che sarebbe morto piuttosto che tradire James e Lily. Il punto è che secondo me morire non è mai stata l'unica opzione, perché se Minus avesse lavorato di più su se stesso, si fosse staccato dall'ala protettiva di suoi amici e anzi avesse pensato di più a cosa avrebbe potuto fare lui per l'Ordine della Fenice e per la sua famiglia, molto probabilmente non avrebbe dovuto compiere nessuna scelta. E la Rowling per segnare questa netta distinzione tra i due personaggi fa in modo che il primo atto di eroismo da parte di Neville sia proprio opporsi a Harry Ron Hermione alla fine della Pietra Filosofale. Tant'è che Silente stesso lo riconosce come tale definendolo un diverso atto di coraggio, dando a Neville merito per questo e ricompensandolo. Dove Minus trascorre la vita all'ombra di amici e persone più potenti di lui, ricordato dai professori come il semplice ragazzino che era sempre dietro James e Sirius, Neville decide fin da subito di staccarsi da questo, dimostrando che nonostante le sue capacità possono essere definite inferiori, lui sarà sempre pronto a mettersi davanti a chi sta facendo la scelta sbagliata e cercare di farlo ragionare. Ancora più importante di questo è che Neville ad un certo punto della saga diventa un simbolo di speranza proprio come Harry. Quando tutto sembra perduto e quando Harry non è ad Hogwarts, è Neville che salva quante più persone possibili portandone nella stanza delle necessità. Mantiene vivo l'esercito di Silente, anzi ne diventa lui stesso leader, ovviamente assieme a Ginny e Luna, facendo in modo però che tutto il castello sappia che questo gruppo è ancora vivo e vegeto. I racconti eroici hanno sempre bisogno di qualcuno che non rinunci mai alla causa, e questo è anche il caso di Neville. I suoi amici vengono rapiti, vengono torturati e in tanti scappano da Hogwarts, ma lui nonostante tutto rimane. Rimane per tutte quelle persone che non possono andarsene dal castello, rimane per salvarli dai due mangiamorte che stanno seminando terrore. E la fiamma che ha tenuto acceso il suo spirito per tutto il tempo è la fiducia nei suoi amici, la consapevolezza e la convinzione che Harry, Ron e Hermione sarebbero tornati e che non l'avrebbero tradito. Cioè, vi rendete conto che se si fosse perso d'animo e avesse gettato la spugna, la battaglia di Hogwarts non sarebbe mai avvenuta e chissà per quanti altri anni sarebbe andata avanti la guerra. È incredibile quello che ha fatto questo ragazzo. Si potrebbe dire che la sua famiglia, in tutta questa sua crescita interiore, abbia avuto un ruolo molto importante. Infatti, come sappiamo, Frank e Alice Pachock sono stati torturati fino alla pazzia da Bellatrix Lestrange, il marito Rodolphus e altri Mangiamorte. Quindi diciamo che Neville ha una propensione naturale ad opporsi a Voldemort. Ma per quanto ne possiamo sapere, anche Peter aveva una madre, anche lui aveva una famiglia che probabilmente sarebbe inorredita davanti alle scelte del figlio. E questo potrebbe ricollegarsi anche al fatto che Minus abbia finto la sua morte, facendo credere a tutti di essere morto da eroe. La situazione di Neville, però, è ancora una volta differente perché lui combatte per una famiglia che di fatto non esiste più. Lui fa tutto quanto per rendere orgogliosi dei genitori che non sapranno mai e che non potranno mai più sapere... Scusate un attimo, mi sono un po' commosso. Dicevo, lui combatte per dei genitori che non potranno mai sapere quanto il loro figlio sia diventato un eroe. Come ho detto prima, alla fine a Neville viene fatta la stessa proposta che molti anni prima Minus aveva deciso di accettare, quella di unirsi a Voldemort e prendere la strada più facile. Ma lui rifiuta, e non solo rifiuta, davvero Grifondoro estrae la spada di Godric Grifondoro dal cappello parlante in fiamme e taglia la testa a Nagini, distruggendo così l'ultimo Horcrux e dando infine la possibilità a Harry di distruggere Voldemort. Neville, forse ancora più di Harry, è la dimostrazione che Silente aveva ragione, che non sono tanto le nostre capacità, ma quanto le nostre scelte a definire ciò che siamo, che si può fare della propria debolezza un grande punto di forza e che in un mondo di leader e seguaci c'è sempre qualcuno che non riesce a stare al suo posto, non riesce a chinare il capo e sono queste le persone che alla fine determinano come finisce la storia, proprio come Neville Pachock. Amici, spero veramente che il video vi sia piaciuto perché è un argomento veramente importante questo che ho trattato. Come sempre, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a seguirmi sui social per non perdervi neanche un video. Vi ricordo inoltre, come sempre, che sotto ogni video troverete il link alla pagina Facebook La Tana del Nerd Official con cui sto collaborando. Io sono Doragon e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!